Zammiti per Addio Pizzo e poi facciamo un giro di risposte. Buonasera a tutti, il mio nome è Alessandro Zammiti, rappresento oggi il Comitato Addio Pizzo che è un movimento che nasce a Palermo dieci anni fa e che opera sul territorio palermitano nel trasto del racket e delle estorsioni mafiose. Questa esperienza decennale ci permette oggi di avere anche una professionalità nella materia che è appunto quella del racket e quindi anche di poter fotografare una situazione che è quella della mafia in un ampio raggio che va ben oltre quello del racket. Con riferimento alla legalizzazione delle droghe leggere, il Comitato Addio Pizzo ritiene che la lotta, la battaglia per la legalizzazione sia soprattutto una questione che riguarda la libertà dell'individuo che oggi fa uso di sostanze quali le droghe leggere in Italia. Secondo infatti quanto emerge dalla relazione annuale redatta dalla Direzione Nazionale Antimafia emerge come il proibizionismo attuato negli anni nel nostro Paese è di fatto stato assolutamente inadeguato per il contrasto allo stesso spaccio delle sostanze stupefacenti. Oggi secondo la Direzione Nazionale Antimafia si parla di un consumo di cannabis che va fino a 3 milioni di chilogrammi all'anno, una quantità di droghe che riesce a soddisfare il fabbisogno del popolo che ne fa uso, addirittura assicurando cose di fino a 50 grammi pro capita per ogni cittadino. Approvvedere all'approvvigionamento di questi cittadini è chiaramente la mafia che attraverso un circuito illegale controlla lo spaccio delle stesse sostanze permettendo al cittadino di utilizzarle in un contesto di assoluta illegalità. Ed è proprio per tale motivo che secondo noi il monopolio dello stesso mercato dovrebbe essere un monopolio nazionale che non basta la richiesta che è stata avanzata da un intergruppo parlamentare in una proposta di legge che attualmente è la proposta del nostro Governo un monopolio che possa appunto assicurare a questi cittadini che ogni giorno consumano le droghe leggere la possibilità intanto di un controllo sanitario sulle stesse sostanze che vengono assunte e quindi la possibilità di farlo nel rispetto della tutela sanitaria che deve essere assicurata ad ogni cittadino e allo stesso tempo quella di poterlo acquistare in un contesto legale che quindi non vada a favorire la mafia sia dal punto di vista economico che anche del potere e del controllo del territorio. Infatti noi siamo anche profondamente convinti che questo non significa il superamento del sistema mafioso la mafia non finisce con lo spaccio della droga però certamente questo potrebbe e va sicuramente a indebolire la quantità di soldi che ogni anno e purtroppo ogni giorno la mafia gestisce anche da quelli che sono appunto i guadagni delle droghe leggere. Una scelta infatti che va da questo punto di vista a legalizzare le droghe avrebbe dei vantaggi per il nostro paese che va oltre l'aspetto economico, quello appunto dei guadagni come è stato detto da voi relatori ma anche un risultato che va oltre nello specifico nell'impiego delle risorse. Infatti secondo l'antimafia e questo è un dato che a nostro avviso va assolutamente preso in considerazione oggi gli strumenti che vengono adoperati per il contrasto alla droga sono assolutamente inefficaci non si riesce a contrastare il fenomeno e viene appunto stato scritto nella relazione annuale e questo comporta un costo inutile delle risorse umane che vengono impiegate in questo contrasto che non produce i risultati che sono auspicati dalle operazioni stesse e anche quindi un costo economico di queste operazioni che non possono essere impiegati sia le risorse umane che quelle economiche per altri aspetti che magari potrebbero produrre risultati maggiori se ci fossero queste risorse in più. E questo è chiaramente un aspetto da tenere in considerazione perché se è vero che da un lato avremmo magari un aumento delle spese sanitarie dovute appunto alla legalizzazione delle droghe leggere è anche vero che avremmo una diminuzione dei costi del contrasto alle stesse droghe leggere e quindi come dire da un lato l'aumento delle spese sanitarie ma dall'altro comunque la diminuzione delle risorse che vengono impiegate in contesto. Ma questo non basta a nostro avviso perché è fondamentale inquadrare anche il problema della legalizzazione delle droghe leggere e quindi del problema della mafia che gestisce questi traffici anche a livello internazionale e quindi vada oltre la dimensione nazionale dell'Italia ma in quella anche europea. Infatti tutte le risorse che oggi vengono fatte dall'Unione Europea nel contrasto alle droghe leggere non sono adeguate a quello che è il problema. Infatti crediamo che per risolvere questo problema quello appunto di questo traffico bisogna gioco le scelte di politica criminale del passato che sono state adottate ed in particolar modo ampliare il target delle attività di intercettazione nella direzione però di soggetti che sono collocati nel mondo dei professionisti e della finanza che sono anche la parte della popolazione che muove la maggior parte dei guadagni o comunque una buona parte degli stessi e quindi penetrare gli ambienti che gestiscono le transazioni finanziarie e quindi sviluppare parallelamente al traffico attraverso una rete di informazioni più elevata. Indirizzare quindi gli agenti sotto copertura che oggi vengono impiegati non solo nel tessuto quindi che gestisce l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti ma anche nell'area professionale di cui parlavo prima. E crediamo che sia anche determinante aggiungere che l'Europa nonostante l'istituzione di organi di coordinamento sul piano degli interventi di prevenzione e di repressione appare ancora disarticolata e mal organizzata. Infatti il fenomeno del narcotraffico è un fenomeno globale che quindi necessita di una cabina di regia che quantomeno abbia un potere di impulso autentico ed incisivo nei confronti dell'autorità investigativa che fanno parte dell'Unione Europea e quindi che possa prevedere anche un abitamento di repressione che vada oltre gli strumenti nella speranza che appunto si possa avere un quadro maggiormente più ampio e quindi che possa magari aggredire dei settori che oggi rimangono assolutamente illesi. Grazie.